Bentornati all'ascolto dei miei audio sull'isola dei famosi 2021. Questo è in assoluto, senza dubbio, il reality che sconvolge più di tutti e mette a dura prova la vita dei partecipanti. Infatti, tra di loro si alternano momenti in cui sono di buon umore a dati nei quali si prenderebbero per i capelli. E questo è dovuto essenzialmente dalle situazioni di disagio che sono costrette a vivere. Ora, a distanza di 48 ore dal momento in cui ha vinto la prova del fuoco, Brando Giorgi è stato costretto ad abbandonare la playa per motivi di salute. Ha dovuto infatti effettuare dei controlli medici. Sicuramente queste sue difficoltà saranno dovute alla scarsa alimentazione e quindi alla mancanza di sostanze nutritive necessarie per l'organismo. Io riguardo a questo voglio dire che sono veramente contraria al sistema che stanno adottando perché è vero che fa parte della loro prova, della loro abilità, del loro essere concorrenti, naufraghi e dell'isola. Però ci dovrebbero essere anche dei limiti a tutto questo perché facendo riferimento anche allo stato fisico di Drusilla Gucci, che è uscita proprio l'altra sera, dico che non è ammissibile permettere alle persone di ridursi pelle e ossa. Anche perché le conseguenze per la salute possono essere gravi e non è detto che sia semplice poterne poi recuperare in breve tempo la forma fisica di prima. Io direi che dovrebbero cercare di fare in modo di permettere a naufraghi di avere comunque il loro sostentamento. Non dico di, altrimenti il reality diventa magari privo di senso, però cercare di fare in modo perlomeno di dargli un'aiuto laddove è necessario. Altrimenti comunque inviterei tutti a non partecipare perché la salute è un bene prezioso e deve essere tutelata e messa avanti a tutto. Con questo mio pensiero io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito ad esprimere anche voi le vostre opinioni e ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle ultime news. Grazie a tutti.